Ben trovati e benvenuti nel video di presentazione della LiveTV. Io sono Antonino Mola, lavoro presso la Regione Veneto, Direzione dei Sistemi Informativi e all'interno dell'Unità Complessa Government mi occupo della posizione organizzativa, piani e programmi per lo sviluppo della società dell'informazione. Quello che vi presentiamo oggi è la LiveTV. Che cos'è la LiveTV? LiveTV è un'applicazione web che serve nella buona sostanza a riprendere eventi registrandoli e a pubblicarli su internet in modalità di streaming. Per la registrazione è sufficiente un PC dotato di una connessione internet di una webcam o di una telecamera. Per lo streaming è invece sufficiente avere un sito internet abbastanza a banda per ospitare gli utenti che ci si attendono. In alternativa si può usare anche YouTube o Vimeo. Ma quali sono le caratteristiche? Innanzitutto la semplicità. È un'applicazione che non ha bisogno di competenze particolari sia nella fase di registrazione sia nella fase di streaming. È un'applicazione sostenibile, è stata progettata in modo da non richiedere costi di gestione. È open source e quindi distribuibile gratuitamente. È un'applicazione flessibile perché basta adattarsi di un PC, di una chiavetta internet di collegamento alla rete e di una webcam per poter riprendere praticamente qualsiasi evento senza vincoli particolari. Alcuni esempi di utilizzo della live tv. In questo caso potete vedere l'utilizzazione della live tv per riprendere un convegno, il convegno di presentazione del portale Piave della regione del Veneto. Ma in collaborazione con il comune di Belluno la live tv viene utilizzata per riprendere e mandare in diretta i consigli comunali. In collaborazione con il comune di Feltre abbiamo ripreso il paglio di Feltre che ha avuto come ripresa un buon successo con centinaia di utenti che hanno seguito via web questa manifestazione. Ancora un consiglio comunale con il comune di Torre Belvicino in provincia di Vicenza. La ripresa e la diretta su internet di un premio letterario, il premio Galileo, che abbiamo registrato in collaborazione con il comune di Padova ed è stato seguito da più di cento scuole in tutta Italia che poi formano anche la giuria del premio stesso. E ancora la ripresa di una conferenza stampa di presentazione di un portale, che è il portale della provincia di Rovigo che è stato sviluppato in collaborazione con la regione del Veneto. Ma cosa si può fare per richiedere il prodotto? Beh, per richiedere il prodotto è sufficiente mandare una mail a cluster.multimedia.chiocciolaregione.veneto.it avendo attenzione di chiedere il prodotto o in modalità di adesione in questo caso il servizio viene erogato direttamente dalla regione del Veneto piuttosto che in modalità di riuso in questo caso invece viene rilasciato il codice sorgente e sosteniamo l'ente nelle fasi di installazione di primo impianto. Che cosa ci proponiamo come Veneto? Beh, quello che facciamo nella sostanza è mettere a disposizione prodotti, sistemi e servizi per aumentare la capacità di servizio della PIA in maniera particolare utilizzando anche la multimedialità e multicanalità come strumento per includere i cittadini nel governo della cosa pubblica. Per dirla con uno slogan puntiamo a un sistema della PIA sempre più semplice, forte e virale. Grazie per l'attenzione.